Oggi ti abbraccio, oggi ti bacio, oggi litigo con te. Io so chi sei, ma tu sai veramente chi sono? Io non sono altro che io e tu sei il mio giorno futuro. Con te si sono aperti tutti gli spazi giussi. Cosa è amarci? Cosa rappresenta aspettarci? Cosa vuol dire essere l'uno dell'altro? Vorrei me come te, ma so che non potremmo mai essere uguali. Già, noi non lo siamo biologicamente. So che l'amore avvicina, non allontana. Io sono me e tu sei te, ed i nostri corpi si intrecciano. Così i tuoi occhi, gocce di cielo celesto, si illuminano con i miei baci e intorno si aprono distese dell'azzurro. Amarsi in cui non siamo più, io e te, ma diventiamo noi. Pasquale Sposta.